Non voglio ammettervi fretta ma sapete che Natale è già alle porte? Ebbene sì, ho già cominciato ad allestire bene la casa e anche la cucina come potete vedere però ho l'alberello qui Quest'anno vorrei farlo un pochino diverso rispetto al solito invece di metterci sempre i soliti fiocchetti oppure le solite palline vorrei riempirlo di biscotti i biscotti di Natale da appendere seguitemi in questa ricetta Per i biscotti ci servono 150 g di farina bianca 00 100 g di farina di farro 40 g di miele, 50 g di burro, 40 g di zucchero a velo un uovo o spezzi a piacere come ad esempio cannella, zenzero, scorza di limone e un pizzico di lievito per dolci per decorare un cucchiaio di confetti di zucchero e pennarelli per alimenti Iniziamo con la preparazione dei biscotti Io ho scelto un mix di farina bianca 00 e farina di farro potete scegliere anche altre farine come al solito e ho fatto un esperimento con questo abbinamento però ciò non toglie che voi non possiate utilizzare magari farina di kamut oppure farina integrale e così via aggiungiamo anche lo zucchero a velo e gli aromi ho scelto dello zenzero in polvere della cannella metterei abbondante e scorza di limone solo la parte gialla è come al solito aggiungiamo anche un pizzichino di lievito per torte questo è facoltativo potete metterlo come no mescoliamo le polveri e aggiungiamo del burro leggermente ammorbidito oppure anche a temperatura ambiente se preferite il miele se non volete utilizzare il miele potete mettere invece di 40 g di zucchero a velo aumentare la dose a 80 g uniamo anche un uovo intero quindi albumi e tuorli mescoliamo fino ad ottenere la consistenza tipica della pasta frolla questa è la consistenza ideale se l'impasto risulta troppo asciutto vi suggerisco di aggiungere 1 o 2 cucchiaini di latte insomma fino ad ottenere la consistenza desiderata avvolgiamo ora la frolla in un foglio di pellicola trasparente e lasciamo riposare a mezz'oretta dopo mezz'oretta possiamo lavorare il nostro impasto potete lasciarla fuori anche dal frigorifero adesso che le temperature comunque non sono così alte mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e stendiamo il nostro sfoglio ad uno spessore sottile ho scelto un mix di sagome tipicamente natalizie potete avere la stellina, l'albero di natale, il cerchio e così via fate sempre la prova per vedere se la frolla si stacca bene dal piano di lavoro oppure potete stenderla tra due fogli di carta forno e insieme alle formine preparatevi anche una cannuccia prendiamo le nostre sagome e facciamo i classici biscotti e man mano li sistemiamo su una piasta foderata con carta forno poi vi dirò anche come fare il foro su ogni biscotto ora dobbiamo realizzare dei biscotti da appendere all'albero di natale dunque dobbiamo farci un forno vi suggerisco di prendere una cannuccia e vedete com'è semplice realizzare il buchetto possiamo anche fare più buchi come in questo caso e poi per togliere l'impasto dall'interno della cannuccia basta fare così insomma e questo si può rimpastare oppure possiamo prendere uno stampino un po' più grande e incidere i biscotti così possiamo prendere anche uno stampino più piccolo in forma di stella e anche i biscotti piccolini si possono bucherellare i ritagli come vi ho detto prima si possono rimpastare però adesso ci concentriamo su questa prima piastra di biscotti alcuni li faccio decorati con delle codette quindi con degli zuccherini altri invece li lasceremo così come sono per poi decorarli in un secondo momento con i pennarelli adatti agli alimenti quindi ho preso un albume semplice semplice battiamo velocemente con la forchetta fino a creare una schiuma poco stabile comunque intingiamo il pennello e poi cominciamo a pennellare i nostri biscotti l'albume funge praticamente da collante così ne faccio vedere un po' e poi possiamo appiccicare le codette o zuccherini che dir si voglia dopodiché le cucineremo in forno a 160 gradi per 10-12 minuti devono dorare appena 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 eccoci qua sono riuscite due leccarde di biscotti li ho cucinati tutti e questo è il risultato io mi sono già un pochino portata avanti e ho cominciato a mettere i fiocchetti come in questo caso vedete che carine che sono e sono commestibili assolutamente sono possibili da mangiare a casa ho fatto anche un omino la tipica sagoma dell'omino di zendero questo vi faccio vedere l'esempio di un alberello e vi faccio anche vedere come mettere i nastrini diciamo che non è la mia specialità ovvero non ho molta pazienza nel fare questo genere di cose di solito chiamo mio nipote Joelle oppure mia mamma allora facciamo passare un nastrino di raso dentro il foro che abbiamo realizzato lo facciamo passare anche due volte cosa dite? non so se a casa ci sono delle sarte che mi stanno seguendo magari mi possono anche dare dei consigli su come realizzare dei fiocchetti fatti a regola d'arte ecco qua un nodino ci metto più a fare un nodo che a fare un biscotto ma non importa ecco possiamo tagliare la parte in eccesso e devo dire che insomma è un buon risultato se non volete decorarli con le codette come abbiamo fatto prima vanno benissimo anche dei semplici pennarelli per alimenti che ho acquistato in un negozio specializzato in prodotti di pasticcerie però potete anche acquistarli online ad esempio qui c'è l'alberello abbiamo il colore verde facciamo un po' di decorazioni verdi giusto per e poi facciamo passare il nastrino anche in questo caso e guardate che carina la stella cometa con tanti buchetti facciamo passare il nastrino più volte e creiamo una decorazione così we wish you a merry christmas chi mi canta la canzoncina? no vi prego non fatemi cantare io non so proprio fare però guardate che carini questi biscotti beh io ho preso un alberello mignon immaginate però un albero grande grande tutto pieno di questi biscottini sicuramente farà un super figurone chissà se resisteranno o se li mangeremo prima buon Natale a tutti ciao ciao